Lei è una focaccia sarda. Io sono Viviana, sono siciliana e mi chiedo perché sei così buona e non ti ho mai fatta prima? Grattugia le zucchine, trita la cipolla con il tuo metodo preferito per non piangere, aggiungi il sale, pepe, l'olio, il parmigiano e la semola. Quasi mi dimenticavo i pomodorini piccadilli. Tagliali e aggiungili al resto, poi versa questo impasto su una teglia rivestita e in forna per circa mezz'ora 180 ventilato. È davvero una delizia!